Ciao a tutti ragazzi, ci troviamo su CSGO e ho appena messo Watch Your Highlights dell'ultima partita che ho fatto con queste persone che vedete Apo, un russo brutto, Tia, Luke e qualcun altro, Black Mamba, che non so chi sia sinceramente Ah, il gioco va automaticamente avanti in base a quello che hai fatto, interessante Ok, vediamo qui che ho fatto, sinceramente non me lo ricordo Una kill e con morte, benissimo Ehi, che è di ciò? La grande P250, che soddisfazioni Attraverso la porta Headshot, complimenti La partita è veramente iniziata male, 1-6 per i nemici Eh, il P90 è stato fatto su Oh Planting Bomb ha been planted Terrorist win lo sento arrivare colpito vedo gente che muore e non capisco chi è che le uccide poi trovato mi hanno inciso alle spalle qui stavo cercando di difendere B colpito di 50 e me li trovo tutti al centro sempre grandi sostitifazioni con questa pistola 3 contro 5 come andrà a finire 6 a 8 per noi abbiamo recuperato parecchi round 1 down liscio 3 kill di pistola defusing e vince abbiamo cambiato side a questo punto questo facile headshot e round perso si dopo un colpo di AWP e un caricatore alla fine è morto qui rimango da solo 1 per 1 e vince come potete vedere 12 a 9 veramente la situazione era praticamente critica non c'era nessuna possibilità di vittoria 9 a 13 l'unica speranza qui era vincere tutti i round tutti completamente tutti un 3 contro 3 3 contro 2 e vittoria 10 a 13 ero sicuro di averlo colpito ma niente proprio preso 3 contro 1 un'altra vittoria assicurata 13 a 11 qui vediamo un rush arrivare da lunga indireggiamo e vittoria anche il round è stato vinto 13 pari a questo punto se non sbaglio la perdiamo si hanno vinto loro e adesso 13-14 l'unica possibilità di vincere era non perdere più round anche questa è stata vinta 15 a 14 per noi ultimo round e a questo punto rimango 1 contro 4 devo vincere per forza altrimenti la partita finisce in pareggio 1 contro 4 1 contro 3 1 contro 2 se vedete sulla mappa vedete i nemici arrivare 1 da scale 1 da lunga planto la bomba 1 contro 1 e l'ultima lunga lo vedo alla fine vittoria 16 a 14 l'ultimo round 1 contro 4 spero la video è interessante ragazzi e alla prossima partita su CS ciao a tutti